Salve a tutti, questa volta facciamo un sondaggio, questo sondaggio sono tre domande, queste tre domande sono, è stata migliore l'amministrazione Oliviero o l'amministrazione regionale Scoperiti? Secondo sondaggio, è stato migliore l'amministrazione Speranza o l'amministrazione Mascaro? Terzo sondaggio e si chiude, siete d'accordo al limite di età dai 18 ai 30 anni per le domande di lavoro o qualsiasi tipo di lavoro deve essere 18, 65 anni per come si va in pensione, cioè dare la parità a tutti e almeno di fare la domanda, anche se non c'è possibilità di entrata, perlomeno diamo la possibilità di fare almeno la domanda e poi ovviamente se non ha i requisiti che sia in grado di entrare, poi non aggiungo altro, anche se ero già partito per dare la mia opinione, voglio le vostre opinioni questa volta, voglio un sì o un no e un sì o un no motivato, come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale Francesco Medicino su YouTube, al prossimo video.